A casa bolognesi! A casa! Tre punti! Finalmente! Ci voleva tanta a vincere! Oh Fiorentina! Dio voglia reggina! Oh Fiorentina! Combatta tutta ardita con valore! Nell'ora di sconforte e di vittoria! Ricorda che del calcio è tua la storia! Allee! Allora! Allora! Allee! Sofferta! Sofferta! Ma presa! Finalmente! Grande Bonifazi! Grande Bonifazi! Grande Bonifazi! Allora! Allora! Va bene! Va bene! Finalmente si torna a vincere! La Fiorentina batte 1-0! Il Bologna decide! Lucas Torreira! Mamma mia! Allora! Primo tempo inguardabili! Palo e traversa del Bologna! Ma poi Bonifazi! Grande! Torneremo 6 campioni! Come le 56! Torneremo a torneremo! Torneremo i grandi aggiori! Torneremo 6 campioni! Mamma mia! Vittoria meritata per il secondo tempo! Solo noi! Grandi! Grandi! Di corto muso! Sei! Come le 56! Che dire! Grande Torreira! Migliore in campo! Partita straordinaria di Torreira! Che partita mamma mia! Che partita! Che partita ha fatto Torreira! Mamma mia! Grande Terracciano! Grandi tutti ragazzi! Grande Terracciano! Grandi tutti ragazzi! Grande Terracciano! Grandi tutti! Grande partita ragazzi! Secondo tempo non c'è un garbaccio ragazzi! Finalmente! 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 Lucas Torreira! Picchia per noi! Che giocatore! Che giocatore Torreira! Che giocatore! Lucas Torreira! Picchia per noi! Lucas Torreira! Picchia per noi! Gato! Bolognese schifoso! A casa! Mamma mia! A casa il bolognese tortellino! Piccio anche oggi il tortello toscano! Merda! Mamma mia! Forza viola! Una curva bellissima! Bellissima! Una squadra fantastica! Noi ci vediamo prossimamente sul canale! Sempre Forza viola! Ci siamo anche noi la Zianale Romali! Ciao! Ciao!